Lupetto è educato. Oggi Lupetto va a giocare da sua cugina Luna. Toc toc! Zia Lucia apre la porta. Buongiorno! esclama la zia. Buongiorno! risponde la mamma. Lupetto abbassa la testa e si nasconde dietro la mamma. La mamma non è affatto contenta. Lupetto non fare così. Saluta la zia per favore. Lupetto scuota la testa ostinato. Non importa sorride la zia Lucia. Lupetto è soltanto un po' timido. Mentre le mamme parlano tra di loro, Lupetto e Luna fanno un puzzle. A un tratto, mamma, ho sete! esclama Luna. Anch'io! aggiunge Lupetto. Le mamme non rispondono. Lupetto insiste e tira la manica della mamma. Mamma, un po' d'acqua! Ripete. Come? chiede la mamma. Non capisco. E tu, Lucia? No, nemmeno io capisco! Risponde la zia. Manca la parolina magica. Lupetto ci pensa un po' e poi dice Mamma, potrai avere dell'acqua per favore? La mamma sorride e dà un bicchiere a ognuno dei lupetti. Non ho sentito ancora niente, dice la zia, sollevando le sopracciglia. Manca di nuovo la parolina magica. Grazie! esclamano Luna e Lupetto. Lupetto e Luna hanno giocato molto e ora sono affamati. Una bella torta di cioccolato è pronta da tagliare. Voglio la torta! esclama Lupetto. La mamma sospira. Sembra che mio Lupetto oggi non sia molto educato. Manca sempre la parolina magica. Lupetto si impegna. Zia, posso avere la torta per favore? Certamente, risponde zia Lucia. E dà a Lupetto una bella fetta di dolce. Sembra deliziosa, dice Lupetto educato. Grazie zia. Di nulla tesoro, risponde lei. Buon appetito! Conosco una canzoncina, dice la mamma, per non dimenticare le paroline magiche. Conoscete le paroline magiche? Buongiorno, grazie, per favore. Quando uno le dice, viene buon umore. Ci siamo capiti, siamo ascoltati e tutti quanti sono più educati. Più tardi, Lupetto e Luna giocano. Vorrei avere qualche carota e un pollo, per favore, chiede Luna. Ecco signora, risponde Lupetto. Lei è davvero gentile. È un piacere servirla. Grazie. 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 Grazie a tutti